Da oggi riaprono i locali, i ristoranti, i bar con postazioni all'aperto, si torna in un certo senso ad una quasi normalità, resta però il coprifuoco inderogabilmente alle 22, ci sono delle voci contrarie, tra queste anche quella del sindaco di Francavilla al Mare Antonio Luciani, perché Luciani lei è fermamente contrario a questo coprifuoco alle 22? Il coprifuoco uguale compressione della mia libertà, perché? Perché se la compressione della mia libertà avviene, come nel caso del lockdown, per un'evidenza scientifica che mi dimostra che non posso passeggiare in riva al mare alle 10 e mezzo perché ho un rischio di contagio in più, allora ben venga la compressione della mia libertà, ma se la compressione della mia libertà con il coprifuoco non dimostra, non c'è dimostrazione scientifica che aiuti la salute degli italiani, beh allora diventa una compressione della libertà fine a se stessa, contro la quale reagire, reagire in ogni modo. Io so che il presidente della regione Marsilio la pensa come me, la pensa come me e infatti gli chiedo, gli lancio un appello attraverso questa vostra emittente, gli lancio un appello di ribellarsi a questo, di fare un provvedimento di legge per dichiarare che tutto l'Abruzzo non rispetterà il coprifuoco, se non lo dovesse fare Marsilio lo farà il sindaco Luciani, questo è certo a Francavilla al mare. A Francavilla al mare la scorsa estate senza coprifuoco abbiamo avuto al 30 settembre solo 10 positivi, non c'è stato nessun problema per il Covid in estate come avevamo sostenuto prima e come continuiamo a sostenere ora con i dati alla mano. Mi aspettavo che l'assessore all'attività produttiva Daniele Damario mi desse solidarietà sul punto, invece cosa fa? Mi attacca, mi attacca perché strumentalizza politicamente questa cosa e allora io dico al presidente Marsilio di valutare bene perché l'assessore Damario che non è tra gli eletti consiglieri e che viene chiamato per la sua esperienza a ricoprire la carica di assessore all'attività produttiva, queste attività produttive rischia di farle fallire, quindi ci pensi bene il presidente Marsilio e magari un cambio di giunta e di passo si potrà anche fare in Regione Abruzzo.